Oltre due quintali di hashish sequestrati, tre persone arrestate, auto di grossa cilindrata risultate rubate e recuperate, tanti soldi incontanti di tenuti provento dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono questi i numeri dell'imponente operazione di polizia giudiziaria compiuta dai militari della Guardia di Finanza di Bari in collaborazione con il nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo e i finanzieri del reparto operativo aeronavale coadiuvati dalle pattuglie in servizio 117 del comando provinciale di Bari. Si tratta di un altro duro colpo alle organizzazioni malavitose pugliesi che prende le mosse da un'operazione portata a termine il mese scorso a Biceglie dove i finanzieri avevano individuato un deposito di stoccaggio della droga. Seguendo il filo rosso di quel ritrovamento i militari delle Fiamme Gialle sono arrivati ad un altro capannone questa volta nella zona industriale di Barletta. Qui hanno sorpreso tre persone, i bicegliesi Girolamo Cuocci di 37 anni e Aldo Troisi di 45 ed il barese Vito Belviso di 42 anni mentre caricavano su tre auto di grossa cilindrata, tutte risultate rubate, grossi involucri di nastro adessivo da imballaggio contenenti 242 kg di hashish. Il primo a tentare la fuga alla vista dei militari è stato Girolamo Cuocci alias il Molfettese, noto pluripregiudicato in regime di sorveglianza speciale. Il dispiegamento di uomini e mezzi da parte della Guardia di Finanza con la presenza di pattuglie speciali dell'antiterrorismo e del pronto impiego del capoluogo del gruppo di Barletta e di unità cinofile ha impedito la fuga ai tre componenti l'organizzazione criminale. L'operazione è proseguita con le perquisizioni in tutto il nord barese per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura di Trani. L'obiettivo è quello di rintracciare i complici dei tre arrestati e individuare i canali di approvvigionamento della droga.